ciao a tutti io sono ursola e mi occupo di storytelling in domino dal 2015 con particolare attenzione all'ingaggio dei dipendenti la parola che ho scelto è carta e penna non solo perché è un bezzo per chi ovviamente scrive come me è qualcosa che riporta un po alle origini ma anche per il ruolo che ha nel lavoro simbolico quando si usa carta e penna si dà concretezza a un'iniziativa gli si dà diciamo forma si passa da un qualcosa che è astratto che è un'ispirazione che deriva sia magari da idee personali ma anche dal confronto con i clienti con i colleghi e lo si mette a terra inoltre quando si dice prendo carta e penna lo si fa proprio perché quell'idea magari o quel pensiero ha particolare valore si dà per dargli importanza quindi secondo me la mia parola è proprio questa e prendete tutti i carti di penna e scrivete un'idea nel pane tutto per il futuro